Il Safer in Trend Day è una delle grandi occasioni nelle quali è possibile dibattere, per questo ringraziamo il Ministro della Gioventura, ringrazia Telefono Azzurro per la sua iniziativa, in cui è possibile dibattere oggi in maniera congrua, non sulla base di proclami o generalizzazioni, in maniera congrua, sensata e pagata, ma tecnica, anche tecnica, non solo politica, del grande tema del nostro Paese e del mondo intero, perché ciò che per il mondo rappresenta il presente, il futuro che è già presente, cioè Internet, la rete, i web, nel nostro Paese è penalizzato dal problema del divario digitale. Ecco, il grande tema, tutto italiano purtroppo, del divario digitale, infrastrutturale, di contenuti, di formazione, è un tema che non può restare ai margini di un dibattito sulla sicurezza in Internet, perché tutto ciò che si cercherà e si riuscirà sicuramente a trovare in tema di rimedi ai problemi della sicurezza su Internet non può prescindere però dal problema del divario digitale. Niente di ciò che deve servire e potrà servire a dare risposte in tema di sicurezza sul web dovrà in nessun modo contribuire, non dico ad allargare, ma neanche a non colmare il grande divario digitale che oggi è afflitto il Paese. Sullo sfondo c'è un problema di non fossilizzarsi sulla ricerca esasperata della soluzione tecnologica per quanto riguarda la sicurezza sul web, perché la sicurezza tecnologica non esiste e questa è una materia in cui questo si può affermare con maggiore sicurezza che in altre, perché è fatta la mossa e immediatamente si trova la contromossa, ma soprattutto puntare tutto sulla risposta tecnologica servirebbe a far rimanere assente dalla battaglia un soldato importante, anzi due, i genitori, cioè le famiglie e la scuola. Anche a loro bisogna guardare perché va colmato proprio per i meno giovani il divario digitale.